Cos'è un calo glicemico? Il calo glicemico è quando noi mangiamo un cibo che si trasforma rapidamente in zucchero l'organismo umano va a stimolare l'insulina e poi questo zucchero che è il motore principale cioè è la fonte energetica principale del nostro organismo che nel zucchero è il glucosio poi deve essere messo da qualche parte. Se io faccio una buona attività fisica questo zucchero mi finisce nel muscolo e va a rimpinzare le quote di glicogeno muscolare se invece non faccio nessuna attività fisica questo zucchero finisce all'interno della massa grassa e si trasforma in grasso. Ecco perché è necessario evitare di avere dei picchi di zucchero e di glucosa all'interno del sangue tali per non finire poi in ipoglicemia. Nel senso quando molto spesso i nostri bambini la mattina si mangiano la brioche dopodiché dopo due orette sono stanchi perché hanno una caduta di zuccheri nel sangue e se invece mangiassero una colazione ricca di proteine questo riuscirebbe anche ricca di proteine riuscirebbe a tenere gli zuccheri un po' più livellati e non avere questi cali glicemici che per il cervello non fanno benissimo. Ecco assolutamente. Arriviamo quindi al mio pranzo, il dottor Acornero è sempre composto da corboidrati, proteine, più verdure, un po' di tutto. Un po' di tutto. Quindi io sono sempre dell'idea che è molto meglio mangiare carboidrati integrali perché si trasformano meno in zucchero poi le proteine a seconda che uno sia vegano, non vegano, vegetariano oppure un onnivoro va benissimo dal tofu al seitan, ai legumi, a un uovo, al pesce, alla carne, insomma un carboidrato che deve rappresentare comunque la parte principale della nostra alimentazione, la verdura e sicuramente una piccola parte proteica che può essere o pesce o carne o legumi o un uovo o magari anche un pezzettino di parmigiano reggiano che comunque contiene una buona parte di grassi e una buona parte di proteine. Naturalmente questo sempre in base poi all'attività fisica e le esigenze lavorative del soggetto.